Tu che prendi invece? Il grappino lo vuoi? Ma sì, perché non posso dire di no? Compriamola. Compriamola perché la Bari torna ad essere qualcosa di importante in cui si riconosca tutta la città. Una squadra di calcio non è una semplice azienda, è molto di più. Io qui mi limito intanto a dare tutta la mia adesione morale all'iniziativa di Compriamola perché si diffonda l'idea che la Bari non è soltanto dei proprietari né appartiene soltanto a quel centinaio di scalmanati che molto spesso mostrano di pensare più a se stessi che al bene della squadra e della città e che non rappresentano l'intero vasto popolo di tifosi baresi. La Bari è dei baresi, siano essi appassionati di calcio non lo siano. Perciò compriamola.